Eccolo qua! Sì, l'uro! Forca puzzola! E questo col 18! E' già andato giù a intanarsi! Eh sì, è già andato! Wow! Grazie Enrico, grazie! Questo qui deve entrare! Verso la cascatella! Questo mi piace troppo! Questo dice no! Guarda dove si è infilato, devi cercare di tirarlo! Sotto, sotto! Un pulente bucato! Aspetta, aspetta che vado giù! Bella questa! Bella questa! Abbia pazienza! Guarda! Questa che! Vieni! Ha spaccato! Hai visto dove erano? C'è giù densa! Dovevi venire giù subito e puntare! Perché qua ovviamente c'è il collegamento sotto! Bene! Qua c'è da tornare! Vai, vai! Grazie! Grazie! Due volte mille! Vedete? C'è un silurato lungo così! Ma spanna! Che carino! Che carino!